Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale e benvenuti a questo Vlogmas numero 20. Oggi vi racconterò, vi spiegherò, vi descriverò la mia wish list, quindi la mia lettera dei desideri per Babbo Natale. Cosa ho fatto? Ho preso la mia lista desideri di Amazon, ve l'ho trascritta, le dieci cose che vorrei e vedremo cosa mi porterà Babbo Natale. Andiamo con la prima, vi metto anche le immagini, vi metto tutti gli articoli nel box, anzi, vi metto le immagini così capite di cosa parlo. Vediamo cosa mi arriva e in base a quello che mi arriva e a come mi trovo, casomai vi faccio un altro video e vi metto i link se mi trovo bene così. Non voglio consigliarvi cose che ancora non ho visto dal vivo, ecco. Andiamo con la prima cosa. Una cosa che mi piacerebbe ricevere è un'agenda. Mi sono resa conto che sono una persona che deve essere organizzata per riuscire a fare le robe, ma non voglio un'agenda quella classica, magari anche super colorata, super carina con gli adesivi, dove devo io scrivermi. E ce ne voglio una proprio minimale e super precisa, cioè ora per ora mi sono resa conto che io non riesco a dire, ok, devo fare queste cose e organizzare il tempo nella mia mente, devo vederlo scritto punto per punto. Questa è quella che avevo visto e che secondo me era carina, anche se molto semplice, però super utile secondo me. Due, vorrei un treppiedi, ho già la ring light come vedete, ma vorrei avere questo che lo chiamano polipo, cioè è molto piccolo, si piega, si può mettere, si può appendere un po' ovunque, si può mettere sopra un tavolo, sopra il bagno, sopra la mensola e secondo me è molto utile per fare foto e video. Numero tre, il five minutes journal, che è questo diario della gratitudine, cioè mattina e sera si deve compilare, ti fa delle domande precise per giorno per giorno, per ricordarti in quel giorno cosa sono state le cose per cui sei grato, le cose importanti che sono successe, cosa potresti cambiare, insomma un po' un resoconto su te stesso, su quello che ti accade e ho notato che molti youtuber, influencer, content creator lo consigliano perché magari a distanza di tempo è bello vedere a che punto eri e dove sei arrivato. Poi, numero quattro, la tazza con il portabiscotti. Vabbè, questa cosa, allora io di sera prendo sempre la tazza di tè con il sacchetto di biscotti sulla scrivania, me lo bevo sul divano, però avere il portabiscotti incorporato secondo me è troppo carino, anche se non penso ce ne siano tanti, però è super cute. Poi, cinque, tuta di TikTok che come vedete ho trovato in varie versioni, corta, lunga, con il logo di TikTok, secondo me prima o poi devo averla. Sei, il backgammon, gioco da tavola, non so se ci avete mai giocato, io lo scopo, cioè sapevo che esisteva ma ho imparato a giocarci in Cina, bellissimo, mi piace tantissimo sto gioco, super divertente. Sette, una pila di libri. Vorrei leggere quello di Michelle Obama, quello di Barack Obama e tantissimi altri. Vi metto solo qua alcune immagini, mi piace leggere se non si fosse capito, ma ce ne sarebbero, non li ho annotati tutti perché sarebbero veramente tanti. Poi, otto, questa cosa l'ho scoperta tramite Oxdan, se la pronuncio è giusta, che è famosa sia su YouTube, TikTok, Instagram, una ragazza biondissima, non so se avete presente, parla di moda, e ha questa tazza di Starbucks, cioè è una tazza, è vera e propria, però la forma è quella del bicchiere di Starbucks, adoro. Nove, il gioco di Jumanji. Non so se avete presente il film, l'originale, il primo, bellissimo, sarei curiosa di vedere il gioco. Dieci, ecco qui, chiudo col decimo perché iniziano ad esserci cose strane. Bene, avevo salvato questo cuoci uova, forse ho pensato fosse utile, fosse carino, non lo so, poi avevo salvato questo portaspazzolino elettrico, e qui andiamo su cose estremamente pratiche e estremamente strane, forse, non lo so, anche voi salvate cose strane sulla vostra lista Amazon, vabbè, quindi chiudo qui, vedremo se riceverò qualcosa e cosa riceverò, ve lo farò sapere naturalmente nel Vlogmas numero 25, che sarà l'ultimo, e quindi ragazzi, questa era la mia wishlist, e avverto Babbo Natale che tutte queste cose si trovano su Amazon, vedremo se mi porterà qualcosa e cosa, ve lo farò sapere, fatemi sapere nei commenti qual è la cosa più strana che avete nella vostra lista Amazon. Fatemi sapere, ci vediamo domani con un altro Vlogmas, ciao!